Musica L'onedì 24 ottobre 2022, buongiorno, ben ritrovati e buon inizio settimana dalla redazione di Tele Regione Molise in apertura della nostra rassegna stampa come di consueto il regionale Primo Piano Molise che dedica il centropagina alla politica post elezioni, Cavaliere, Stana, i traditori di Forza Italia l'assessore mette in fila fatti, circostanze, nomi e cognomi nel mirino di Baggio e Roberti hanno pugnalato alle spalle la coordinatrice Tartaglione che si è spesa in loro favore il punto sulle regionali, centro-destra unito, l'aspirante presidente passerà per il tavolo romano ma basta tecnici prestati alla politica proprio sul tema andiamo all'interno di Primo Piano Molise la resa dei conti, siluri di Cavaliere sui traditori di Forza Italia un mese dalle elezioni l'assessore punta il dito contro Roberti e Di Baggio hanno pugnalato alle spalle la coordinatrice Tartaglione che a loro ha dato tanto e leggiamo anche uno straccio dell'articolo di riferimento tradito da dirigenti ed esponenti di spicco di Forza Italia l'assessore Nicola Cavaliere rompe il silenzio lo fa utilizzando toni pacati con il solito sorriso da pacioccone ma mettendo in fila fatti e circostanze, nomi e cognomi nel mirino finiscono diversi esponenti del partito in particolare il sindaco di Termoli che è anche presidente della provincia di Campobasso e coordinatore provinciale del partito di Berlusconi e poi le altre notizie tornando sempre in prima pagina su primo piano Molise sempre nel centro pagina programma operativo Mancini controcorrente comprendo Toma dirigente di Fratelli d'Italia il vicepresidente del Consiglio Comunale di Isernia scrive ai parlamentari in attesa del decreto Molise cambiate il Balduzzi poi nel taglio laterale dentro la notizia cerce maggiore vandalinazione danneggiata alla porta del mondo e l'area del Belvedere Termoli, Rissa, Condominiale per il Superbonus malumore per Vecchia e Ruggini la testimonianza e poi nel fondo pagina Venafro sopravvissuta al crollo della scuola Iovine Veronica d'assenzio ospite per non dimenticare e poi ancora le altre notizie sempre nel taglio laterale di primo piano Molise Campobasso, riqualificazione del Monforte architetti delusi Gravina stupito dalla costa governo Meloni Balneari fiduciosi saprà tutelare i nostri interessi e poi il racconto Carmine Mosesso contadino intellettuale che alleva Capre e compone versi poi il punto come sempre questa volta a firma del collega Pasquale Damiani tanto tuonò che piove nel taglio alto lo Sport Serie D ottimo pareggio del Termoli a Fano il Roma City frena il vasto Girardi eccellenza l'Isernia torna a vincere Goliade e Venafro e Turris Boiano e Agnone ok Palavolo netto 3-0 per l'Europea 92 successo anche per la Spike Devils da regionale primo piano Molise ci spostiamo adesso al nazionale partendo dal Corriere della Sera tutti i quotidiani nazionali saranno caratterizzati dall'incontro di Meloni con Macron il debutto Meloni-Macron prime intese il lungo passaggio di consegne con Draghi in una cartellina lavoro svolto e dossier aperti l'incontro con il leader francese proficuo dice Cingolani consulente del governo sull'energia dal Corriere della Sera ci spostiamo sulla Repubblica nel taglio alto sempre l'incontro tra Meloni e il premier francese Macron Meloni a lezione d'Europa primo faccia a faccia con Draghi per 90 minuti l'ex premier le ha spiegato la drammaticità del momento consigliandole di non isolarsi nell'Unione Europea poi l'incontro in serata con Macron in visita nella capitale continueremo il lavoro iniziato discursi tutti i principali dossier risposta comune sull'energia FMI Roma non faccia gli errori dell'energia unito priorità aiuti EPNRR no a flat tax poi nel taglio laterale Mappamondi appello per la pace Italia-Francia la guerra sfida i nostri valori e poi ancora sempre nel taglio laterale il cancelliere Schulz sosteniamo Kiev ma no ai cararmati ancora le altre notizie nel fondo pagina il caso quanto costa far studiare un figlio anche 130.000 euro l'anno l'articolo di riferimento di Raffaele Ricciardi e poi il reportage c'è vita anche tra le macerie e cartoline dell'Ucraina dove si torna a sperare dalla Repubblica diamo adesso uno sguardo alla prima pagina del tempo cerimonia della campanella governo già al lavoro il titolo del tempo passaggio di consegne fra Draghi e Meloni e poi subito il consiglio dei ministri si parte con il caro energia delega ai ministri Mantovano sottosegretario tanti contatti contratti da rinnovare servono misure per ridare potere d'acquisto alle famiglie nel centro pagina oltre lo sport che approfondiremo sulla gazzetta debutto di Giorgia con Macron il presidente francese e il primo capo di stato a colloquio con la Premier e poi sempre nel centro pagina dopo la conferenza del leader cinese ha si rafforzato tra Putin e Xi Jinping nel taglio laterale invece gli italiani hanno premiato la nostra credibilità l'intervista del mastro di Fratelli d'Italia giallo delle nomine moratti per Milano Cortina poi Palazzo Chigi smentisce dal tempo diamo adesso uno sguardo anche alla prima pagina del Fatto Quotidiano sempre la politica nel centro pagina Beloni è ostaggio di Draghi ricicla pure Attila Cingolani questo è il titolo del Fatto Quotidiano Porte Girevoli l'ex ministro torna a Leonardo e fa il consulente poi ancora il fatto economico sempre nel centro pagina Londra in mano alla FID ma anche l'Italia e l'Unione Europea nel taglio laterale invece smentito il trasloco città del Pieve Mario inizia la sua vita da ex per ora e poi tre giorni per la pace Sant'Egidio tregua senza umiliare né Kiev né Mosca nel taglio alto invece l'incontro Macron dà a Georgia lezioni di sovranismo contro gli Stati Uniti sul gas doppio standard sui prezzi all'interno e all'Unione Europea poi media part pronto a sfruttare le divisioni degli avversari Israele verso le urne in agguato ora la soglia della rivincita dal Fatto Quotidiano ci spostiamo adesso sulla prima pagina della verità il centro pagina sempre con la politica sì il governo è in bolletta ma per colpa dei migliori dall'allarme camice nera all'allarme tasche al verde ora giornali e tv scoprono che stiamo in crisi dimenticando che a ridurci così sono stati dieci anni di esecutivi tecnici con l'aiuto di Bruxelles questione Europa sempre nel centro pagina prima Ursula poi Macron Beloni attenta non ti fidare questione cultura basta Rosiconi San Giuliano forza distruggi questa cappa poi ancora sempre nel centro pagina mappi in basso ma che solidarietà e business lo scandalo dei vaccini in Africa donati e subito buttati la nostra inchiesta sul fallimento del programma COVAX e poi ancora terzi di Sant'Agata dopo il congresso Cina più pericolosa ora è a rischio l'ordine mondiale dalla verità diamo adesso uno sguardo al quotidiano economico del sole 24 ore nel taglio alto nuovo governo Meloni priorità price cap caro bollette clamoroso caloroso passaggio di consegne con Draghi Cingolani resta consulente sull'energia primo vertice europeo faccia a faccia tra neopresidente e presidente francese Macron ancora parte la corsa alle nomine pubbliche Eni Enel Leonardo le 100 scelte chiave e poi l'agenda nel taglio laterale fra fine 2022 inizio 2023 rinnovo obbligato per le posizioni al vertice tornando poi sempre sul centro pagina invece i fronti aperti PNRR fitto registra su 320 miliardi di fondi pensioni allo studio quota 41 con vincoli e poi pace fiscale mini cartelle ritorna lo stralcio e poi l'emergenza energetica caro bollette condominio alla prova nel taglio laterale invece il panorama Cina Xin Jinping sempre più forte nominati sei fedelissimi adesso via i moderati ci spostiamo adesso al quotidiano sportivo della gazzetta dello sport il centro pagina dedicato al Milan Milan l'Europa è un ordine missione 60 milioni la conquista degli ottavi vale un tesoro per Red Beard domani a Zagabria fiducia a Dias poi nel taglio alto l'incontro di ieri sera tra Napoli e Roma la capolista non si ferma più ora vola sola più tre Napoli Osimene grande bellezza a Roma Spalletti unico imbattuto in Serie A e poi l'intervista a Mourinho il risultato ingiusto l'orgoglio di Luciano gara a trappola ma siamo stati bravissimi nel taglio laterale anche le altre notizie della Serie A Pellegri d'oro è un oro per il toro un gol per papà Iuri ci rimonta che è il colpo ad Udine poi nel taglio laterale anche la MotoGP Bagnaia io quasi Montiale dice vince in Malesia con la sua Ducati ci siamo al 99% prima di chiudere diamo uno sguardo anche al nostro palinsesto alle ore 11 conto alla rovescia alle ore 13 camminando molise alle ore 13.50 Musa TV alle 14 la nostra informazione in diretta con il telegiornale alle 16 punto verde alle 17.30 camminando molise alle 19.30 torna la nostra informazione con il telegiornale alle 21 commedia triatrale alle 23 l'ultima edizione del nostro telegiornale e non mi resta che salutarvi io vi ringrazio per averci scelto a tutti voi auguro un buon proseguimento di giornata a tutti a tutti guardate